Quanto devi spingere le calorie in bulk? Quante proteine devi mangiare? Come dividerle nei vari pasti? Quanti pasti devi fare? Questo video chiarirà tutti i dubbi sulla tua alimentazione. Abbiamo preso le 6 domande più frequenti che ci vengono fatte, in questo video le affronterò una a uno. Prima di iniziare, come sempre ragazzi, per supportarci al massimo se vi piacciono questi contenuti e se volete che continuiamo a farli, allora iscrivetevi al canale. A voi non costa niente, a noi dà veramente una mano importantissima, perché la maggior parte di voi vede i video ma non è iscritta al canale. Quindi ricordatevi di premere sull'iscrizione. Ultima domanda, devo fare un bulk spinto oppure il cosiddetto lean bulk? Quindi un bulk dove cerco di essere quanto più tirato possibile. Ora in realtà questa domanda, tra virgolette, è stupida. No, che siate stupiti, però insomma, ho capito. Perché dà una prospettiva, un punto di vista della fase di bulk che è totalmente sbagliata. Ossia quando faccio un bulk, l'ABF, sia il livello di massa grassa, è sicuramente uno dei fattori che devo tenere in considerazione. Ma non è quello che mi determina come muovermi in bulk. In altre parole, se io dico che sto facendo un lean bulk, sto dando importanza a un fattore che deve essere in realtà più che altro una conseguenza. Vi spiego meglio. In bulk il nostro scopo primario è mettere massa muscolare, del resto in realtà non ci interessa. Sappiamo però che se ingrassiamo troppo, quindi i livelli di IBF arrivano ad essere livelli sovrafisiologici troppo importanti, allora nel mio antagonismo tra tessuto muscolare e tessuto adiposo, il tessuto adiposo inizia ad avere la prevalenza. Su cosa? Sulla destinazione delle calorie che mangiamo, in altre parole quello che mangiamo tende a finire molto di più in accumulo adiposo più che in tessuto muscolare. Quindi non mi conviene far salire l'ABF in maniera esagerata, ma questo non vuol dire che mantenere l'ABF nel range è lo scopo della mia fase di bulk. Per far questo dobbiamo semplicemente aumentare le calorie in maniera graduale, di circa un 10% ogni volta, e inserire delle fasi di mini cut o una ciclizzazione ad onde in maniera strategica. Come regola possiamo dire che su un soggetto natural dovremmo ricercare un aumento di peso di 1-2 etti a settimana, su un soggetto enhanced di circa 3-4 etti a settimana. Non vuol dire che ogni settimana devo aspettarmi di salire, perché l'aumento in fase di bulk non è mai lineare, però questo è il range su cui mi posso basare. Se vedo che ho uno stallo di X settimane, allora automaticamente andrò ad aumentare un filo, e devo pianificare le mie settimane di bulk immaginando quello che è il mio peso di destinazione, basandomi su questi parametri. Se salgo di meno, probabilmente non sto spingendo abbastanza, non sto sfruttando quello che è il mio potenziale per poter crescere. Se sto salendo di più, probabilmente quello che sta aumentando in realtà è troppo il tessuto grasso e non tanto il tessuto muscolare. Seconda domanda, quanti pasti devo fare? E l'aspetto del numero di pasti è un qualcosa che mi manda fuori di testa un sacco di persone. Ha un'importanza? Sì, ha un'importanza, ma non esagerata. Il lieve massimo alla regola che possiamo dire è che, per ottimizzare il tutto, dovremmo fare almeno tre pasti al giorno, più il nostro intra-workout. Quindi, per esempio, colazione, che può fungere da pre-workout, mi alleno in mattinata, il pranzo sarà il mio post-workout, e vado direttamente alla cena. Questo perché posso massimizzare la protosintesi muscolare, e ne abbiamo già parlato in altri video, e posso massimizzare quello che è il timing dei nutrienti, di cui parleremo tra un pochissimo. Quindi, da tre in su, gli unici aspetti su cui ti devi basare per scegliere il numero di pasti è come ti organizzi meglio, quindi l'organizzazione della giornata, e la digestione, quello che riesci a digerire e assorbire meglio. Se stai più comodo o comoda a fare tanti pasti, fanne di più. Se stai più comodo, più comoda a farne di meno, fanne di meno. Super semplice. Terzo, quante proteine devo mangiare? Questa è la domanda forse bono, la domanda da sempre storica, la domanda più buona di video. Quante proteine mangiare? E ci abbiamo dedicato un video, quindi vatti a rivedere il video, però te lo riassumo a grandi linee. Quello che sappiamo dalla position standard dell'ISSN è che un quantitativo di 1,5-2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo è più che sufficiente per massimizzare i nostri risultati. Ora, ci sono alcune evidenze che un range, un contenuto proteico fino anche a 3 grammi per chilo potrebbero dare un beneficio, quindi un qualcosa in più, che non è certo, però ci sono alcuni spunti, diciamo, alcuni suggerimenti dalla letteratura. Però sappiamo anche, questo anche per esperienza nel bodybuilding, che proteine alte tendono a creare distress da un punto di vista gastrointestinale, soprattutto nel lungo periodo, che può portare a un peggioramento di quella che è la midsection, anche da un punto di vista estetico. Situazioni di infiammazione, la famosa sindrome dell'intestino irritabile, eccetera, eccetera. Quindi quello che noi consigliamo è di stare su 1,5-2 grammi per chilo di peso corporeo, come consigliato, e per ricercare qualcosa in più intervenire con l'integrazione dei soli amminoacidi essenziali. Perché? Perché gli amminoacidi essenziali sono molto più potenti in termini di stimolazione della protosintesi, quindi non dovremo assumerne così tanti. Ci basteranno 3-4 grammi per ogni 10 kg di peso corporeo, quindi normalmente un 20-30 grammi. Altra domanda, troppi carbo creano resistenza insulinica? Questo è un po' il timore che hanno tante persone. Vedono dei range di carboidrati molto, molto importanti. sugli atleti dicono, ma se io devo mangiare tutti questi carboidrati, tutte queste linee guida, tutte queste indicazioni, ma non è che mi viene una resistenza insulinica, o vado a peggiorare la mia sensibilità insulinica? Fasi di surplus calorico, quando protratte per tanto tempo, portano inevitabilmente a un peggioramento della sensibilità insulinica. Questo perché il nostro setting ormonale e recettoriale non è pensato, non è del tutto attrezzato, salvo casi genetici, per gestire così tante calorie. Lo sport è sempre una forzatura e per questo si impostano delle ciclizzazioni ad onde oppure di minicatto ogni tanto per ripristinare questi valori. Però ciò detto, la cosa su cui vogliamo fare enfasi, è che sì, troppi carboidrati portano a dei peggioramenti, un surplus esagerato porta a un peggioramento, ma questo non vuol dire che tanti carboidrati, ok? La differenza è questa, troppi carboidrati o tanti carboidrati. Nel bodybuilding e nello sport, in generale, soprattutto a anaerobico, si devono consumare tanti carboidrati rispetto alla media. Perché? Perché siamo degli sportivi, però, d'altro canto, tanti non vuol dire necessariamente troppi. Troppi è uno step successivo, vuol dire, per l'appunto, troppo. Insomma, andate a vedere il treccano, il dizionario per vedere la differenza tra tanti e troppi. Tanti va bene, troppi no. Possiamo dire che in fase di picco, in una situazione di off-season, si possono raggiungere i 7-10 grammi per chilo di peso corporeo, che possono essere 7, possono essere 8, 9, 10, in base alla soggettività. Quinta domanda, il timing dei nutrienti è veramente così importante? Ora, il timing è importante. Sì, è importante perché ci permette di massimizzare tutto quanto, ma attenzione. Normalmente, quando si parla di timing dei nutrienti, si pensa semplicemente a mettere più carbo nella peri-workout nutrition, che sicuramente è un punto importante. Perché? Perché l'allenamento ha un effetto insulino-mimetico, quindi mettere più carboidrati al ridosso dell'allenamento, quindi pre, e soprattutto intra e post, ci permette di massimizzare il recupero e di destinarli in maniera preferenziale al tessuto muscolare, a discapito di quello adiposo. E questo è un chiaro vantaggio. Però, quando parliamo di timing, ci riferiamo generalmente a quella che è la distribuzione dei macros nell'arco della giornata, che può voler dire anche ragionare su quanti carboidrati, o quale pasto, quali macros avere nel pasto prima di andare a dormire, cosa mangiare nel pre-workout, quanto tempo distanziare, tutti aspetti che non riguardano soltanto il massimizzare il recupero o gestire carbo a ridosso dell'allenamento, ma riguardano, per esempio, il miglioramento del sonno, quindi cosa mangiare prima di andare a dormire, per migliorare il mio sonno. In alcuni soggetti, in alcuni contesti, va bene abbondare di carboidrati, in altri contesti è totalmente deleterio. O quanto distanziare il mio pre-workout, per avere una buona attivazione del sistema simpatico, quando mi alleno, perché se è troppo a ridosso, probabilmente avrò una forte spinta in parasimpatico, se è troppo distante, rischio di arrivare affamato, senza energie, e di non riuscire a esprimere performance. Quindi, da questo punto di vista, il timing è importante, ci sono diverse regole, ma in primis, ogni scelta deve essere fatta in modo da massimizzare lo stimolo e il recupero, quindi è assolutamente soggettiva. E ultima domanda, devo mangiare proteine ad ogni pasto? Ora, abbiamo dedicato un post su Instagram, molto interessante, sulla nostra pagina, Rhino Nation, dove vediamo come massimizzare la proteosintesi muscolare con l'alimentazione. E quello che sappiamo attualmente, in questo stato dell'arte della letteratura, è che dividere le proteine nei diversi pasti conviene. Che non vuol dire che devo avere mille input proteici al rilasso della giornata, mille in qualsiasi momento, ogni tuo tempo, eccetera. Quello che possiamo dire è in realtà abbastanza semplice, ci sono delle regole abbastanza plastiche, ossia avere un intake proteico di almeno 40 grammi di proteine totali, o almeno una ventina di grammi di proteine nobili, ogni 3-5 ore, quindi generalmente nei 3 pasti della giornata, se vogliamo anche di più, in base a quanto pesiamo, e quindi quante sono le proteine che dobbiamo consumare, e un intake di almeno un 10 grammi di amminoacidi essenziali, quelle 2-3 volte al giorno, di nuovo in base al nostro peso. In questo senso possiamo per esempio distribuire le nostre proteine in 3 pasti principali, avere poi delle proteine indirette negli altri pasti, dove in questo caso aggiungeremo gli amminoacidi essenziali per dare una forte spinta alla protesintesi muscolare e arrivare in questo senso a massimizzarla. Ok ragazzi, questo è tutto, spero di aver fatto un po' un cappello generale, però quello che vi posso dire è che se c'è uno di questi argomenti che volete approfondito un po' di più, perché queste informazioni non vi bastano o siete più curiosi o volete vedere alcuni dettagli o avete altri dubbi, insomma quello che vi pare scrivetelo qua sotto nei commenti e saremo benigliati di farci dei video. Nel frattempo noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.